Grandinavi, non si placca la polemica ed anzi continua il botte risposta a distanza tra i diversi protagonisti. Da un lato torna a farsi sentire Adriano Celentano da sempre contro le Grandinavi in Laguna che dal suo blog plaude l'uscita del ministro Franceschini e scrive Non credevo alle mie orecchie, bravo Dario, e definisce un ipocrita il presidente della regione Veneto, Zaia. Dall'altro il governatore Zaia non si fa trovare impreparato e ricorda al molleggiato semplicemente chi è. Celentano è un grande cantante, è bene che continui a fare il cantante. Grandinavi sì, Grandinavi no, la questione sembra dividere anche i vertici del Partito Democratico. Da un lato Roma col ministro Franceschini che apre a Trieste e pensava guardare alla Laguna di Venezia dall'altro il partito regionale che teme per i posti di lavoro e per il ruolo turistico di Venezia. È fuori discussione che dal punto di vista croceristico e turistico Venezia è il punto centrale di riferimento quindi le affermazioni del ministro Franceschini non mi convincono, abbiamo bisogno di approfondirle in un dibattito molto schietto. Il ministro ha sbagliato, la sua è stata un'uscita avventata, conferma anche il sottosegretario Rico Zanetti ma spiega che le colpe non sono tutte sue. Deriva dalla troppa poca chiarezza che in questi anni c'è stata sul tema anche dalla politica veneziana, troppi distinguo, tutti a parole sì per tenere comunque le grandi navi seppur in modo diverso ma poi soluzioni a volte talmente complesse e improbabili da far sembrare che la voglia davvero non vi fosse. Mentre in furia la polemica e in attesa di un sistema integrato tra i porti dell'Alto Adriatico, spiccato dal sottosegretario Baretta, bisogna fare i conti con l'immediato e c'è chi vede nella proposta del sindaco di Venezia Brugnaro dello scavo di un canale una soluzione non ottimale ma realistica. Cose che comunque sono compatibili con il mantenimento nel medio periodo delle grandi navi marittime, l'unico vero luogo dove può realmente essere svolta questa attività di qui a dieci anni. E per buona pace della politica e delle polemiche consiglio di lasciarsi guidare da chi ne sa di più. Le soluzioni tecniche sono allo studio delle autorità competenti e penso che sia bene che la politica si affidi anche all'esperienza dei tecnici per decidere qual è la soluzione migliore. Intanto domani torna la mobilitazione dei no grandi navi, l'appuntamento alle 15.30 alle Zattere contro il progetto 3S Vittorio Emanuele, voluto dal sindaco Brugnaro. Sostenuto ora anche dal presidente del porto Paolo Costa dopo la bocciatura dello scavo del contorta e da una parte del Partito Democratico.